Musica Bene amici qualcuno si aspettava un nuovo mini in realtà stanotte DJI ha presentato il nuovo Mavic 3 ed eccolo qua Si sono concentrati nella qualità dei video da una parte, nella possibilità di zoom dall'altra Ma una cosa appena l'ho tirato fuori dalla confezione mi ha colpito magari è passata in sordina ma mi sembra una genialata La nuova chiamiamola cover chiamiamola museruola non so come chiamarla ma è una protezione che consente di mettere il drone direttamente nello zaino Perché va a proteggere le parti più soggette a eventuali rotture o danni, eliche con le punte che vanno qua sotto Anche sopra vedete vengono protette e soprattutto la parte cam e gimbal e poi si toglie veramente semplicemente Si tira su questa levetta, voilà, si fa così e lo si debriglia, non so se si dica ma vabbè l'ho detto lo stesso E guardate la novità doppia cam con la principale in collaborazione con Hasselblad, anche la secondaria ovviamente Ma che ha un sensore addirittura 4 terzi MOS quindi molto grande 20 megapixel, l'obiettivo 24 mm 84 gradi quindi più grandangolare rispetto al Mavic 2 Mentre abbiamo una seconda cam qua sopra che è uno zoom, addirittura 163 mm la lunghezza focale Però il sensore è un po' più piccolo ed è da mezzo pollice Vuol dire se prendiamo la 24 mm come uno per un 6,775 per di zoom Però interpolando riesce arrivare anche a 28 per direttamente mentre si è in volo Poi le altre caratteristiche sono simili al Mavic precedente Ovviamente la forma, il peso 900 grammi e forse un pelino più leggero, un pelino più piccolo Ma veramente inezze Quello che cambia sono i sensori perché 1, 2, 3, 4, 5, 6 cam sono grandangolari E se andate a sviluppare la sfera creano praticamente una bolla attorno al drone Che va a rilevare gli ostacoli E grazie al chip più potente è implementato il nuovo Active Track 5 Il Master Shot, il Wi-Fi più veloce, il Wi-Fi 6 per scambiare dati più velocemente Scaricare i file più velocemente attraverso lo smartphone E poi 4K 120 frame per secondo e 5.1K 50 frame per secondo Però è presentato in due varianti Quella standard che ho io con 8 giga di memoria integrata E quella cine, lo dice la parola stessa, dedicata al cinema Perché ha integrato il codec Apple Pro Res Con addirittura 200 megabit di banda passante Quindi file enormi e per quello che ha dentro anche la versione cinema Un SSD da 1TB Comunque qua c'è l'H.264, H.265 e c'è anche una grandissima batteria Praticamente guardate il drone è tutto batteria Togliendo la batteria diventa leggerissimo Ma questo garantisce ben 46 minuti di volo Che poi non sono sempre 46 ovviamente Al 20% inizia a darvi degli allarmi Ma tendenzialmente 40 minuti si possono volare Immagino tranquillamente 77 watt ora Il caricabatterie anche quello è nuovo Da 65 watt Eccolo qua con anche uscita USB standard Per caricare il radiocomando E poi in confezione abbiamo i soliti cavettini Adattatori tipo C, USB micro e lightning Gli stick di ricambio per il radiocomando La tecnologia è sempre quella proprietaria di DJI Leggermente migliorata Porta il segnale La portata a 12 km in CE Qua soliti stick che si possono togliere Radiocomando punto classico lo conosciamo Ma adesso direi subito Prova sul campo E ci siamo sfidando la pioggia In realtà fortunatamente abbiamo una finestra di cielo Non dico sereno ma quantomeno senza pioggia Joe alla guida Così possiamo vedere effettivamente come ci segue Novità Le eli che hanno un materiale leggermente più morbido Come sentite meno rumoroso del Mavic 2 E niente Joe Io vado Tu mi segui Facciamo un po' di footage Ammazza che salite che tempo Vento Qua sarebbe un bel 30-35 km orari Però guardate la stabilità Lui è certificato per volare e rimanere stabile Fino a 50 km all'ora Ma adesso proviamo lo zoom Che è la grossa novità Quindi lo facciamo volare Visto che qua ci sono delle colline Delle montagne Degli alberi Delle chiesette Molto interessanti Proviamo a vedere questa nuova 6.75x Che è una novità interessante Io ho sempre amato le versioni zoom Perché ti consentono di non andare vicinissimo ai soggetti Pensate degli animali Degli uccelli Non disturbarli Non farli volare via Ma comunque fare riprese fighe Vai Joe Decolla E in questo momento Joe sta volando FBV L'abbiamo un po' perso di vista Perché è veramente lontano E tra l'altro Il ritorno video Su questo modello È 1080-60 frame per secondo In effetti La fluidità è notevole Anche di quello che stiamo guardando Sullo schermo del telefono E questi siamo noi A 1x 2x Adesso E siamo a 3x Adesso ha switchato Avete visto sull'altra cam 12x 13x Quanto siamo? Ma sali con l'inquadratura Quello sei tu Ti vuoi inquadrare Siamo a 28x Ovviamente il 28x è interpolato Come vi dicevo Lui arriva fino al 6.75x Ottico Qui siamo a 600 metri da noi Ma mi voglio fermare Perché voglio provare lo zoom Su quella casetta Così siamo a 2x Prova a zoomare al massimo 3x Qua cambio cam 7x Gira un attimo il gimbal Un pochino più a destra Bravissimo Cioè guardate Lo zoom 13x Comunque qualità Ancora decisamente buona Fino al 28x Che è il massimo Zoom al massimo E questa è l'estensione massima Dello zoom Perde un po' Sgrana un po' Poi voglio scaricare i file E capire quanto effettivamente sgrana Ma guardate che ripresa Riusciamo a fare Torna 1x Con il drone Che comunque è a metà strada Tra noi E quella collina La collina sarà circa Un chilometro e mezzo Noi siamo a 600 metri Vedete quello che vi dicevo Cioè consente di non andare Vicino al soggetto Ma comunque di riprenderlo In primo piano Tanta roba lo zoom Stiamo tornando un po' Velocemente Perché la batteria È al 39% 46 minuti di volo Comunque sono tantissimi E adesso abbiamo S'in sport Per tornare più velocemente Stiamo arrivando Con questo vento A 19 metri Al secondo Di velocità Più o meno 70 km all'ora Giù di là La risoluzione massima Si può raggiungere Solamente quando è abilitata La cam principale Perché quando abilitiamo Anche lo zoom Si abbassa Vedete E al massimo Si arriva al 4k 30 frame per secondo Ma quello che Mi ha impressionato È Guardate Questa bolla Che si crea Attorno al drone Che ci dice Gli ostacoli Che ci sono Come vedete Vi dà anche le distanze Ma a 360 gradi Adesso è rosso Solamente in un angolo Perché c'è un ostacolo vicino Se mi avvicino io Diventa rosso Vedete La zona E il settore Dove Sono io Quindi sente Gli ostacoli Proprio a 360 gradi I sensori sono veramente Fantastici Lui avrebbe L'Active Track 5 Che però non è ancora Abilitato a livello Firmware Arriverà all'aggiornamento Tra qualche Settimana Che è una figata Perché E vi sto facendo vedere Il video Istituzionale Di DJI Che lo spiega Riesce A tracciarci A evitare Ostacoli Alberi E anche se noi passiamo Tra gli alberi La traccia intelligente Riconosce Il soggetto Non è come una volta Che spesso capitava Sui droni precedenti Che passando dietro A una collinetta Un albero A un ostacolo Perdeva la traccia Lui la mantiene E Quello che fa O quello che promette di fare È incredibile Lo proveremo Dopo che L'avrò aggiornato Ed eccoci di ritorno Mamma mia che freddo Tra l'altro Questa non è un recensione Ma prime impressioni Proprio perché Il firmware non è definitivo L'applicazione La classica DJI Fly Vi faccio vedere Le opzioni L'assistenza Quando incontra gli ostacoli Si può settare Per un bypass Automatico Proprio dell'ostacolo Oppure Si può far fermare Se c'è l'ostacolo O si può anche disattivare E volendo potete Anche schiantarvi Contro gli alberi Il ritorno automatico Bello il fatto Che con tutte queste telecamere Riesce a Capire 200 metri avanti Al drone Cosa succede Quindi ritornare automaticamente Anche lì Evitando ostacoli Vi faccio vedere I comandi generali E poi le impostazioni Della cam Qua molto importanti Può registrare In 10 bit D log Formato codifica H265 H264 Vi dicevo La versione cine Può anche avere Il pro rest Di apple E poi bit rate Costante O variabile Qua vi faccio vedere Tutte le altre Impostazioni Ovviamente Anche la trasmissione Settabile Sui 2.4 5 gigahertz O meglio Doppia banda Così fa lui Automaticamente Sceglie anche Il canale Più libero Da interferenze E come Gira I video Beh L'avete visto Direi decisamente bene Anche se Mi riservo anche qua Di dare giudizi definitivi Visto che Il 4K 120 Con questo firmware Non lo fa Ma una cosa che mi è piaciuta È L'effetto bokeh naturale Quei poi giocando Con lo zoom Questo effetto Può essere anche Amplificato Mi è piaciuta anche La manovrabilità Del drone Avete visto La resistenza Al vento Super Anche la stabilizzazione Del gimbal Come al solito Da quel punto di vista DJI Veramente non deve imparare Da nessuno Cosa non mi è piaciuto Il salto Avete visto Notevole Quando si va a zoomare Tra lo zoom 1x 2x 3x E poi c'è quel gradino Fino al 6x E poi anche il fatto Che Se Non utilizzo Lo zoom Posso girare Alla massima risoluzione Ma se vado a utilizzare Lo zoom Posso Registrare solamente A risoluzione E frame rate Più bassi Beh Quello Non mi è piaciuto tanto Anche perché Quando uso L'1x Comunque Uso la cam principale Però è anche vero Che durante la registrazione Non posso fare neanche Un salto di risoluzione E di frame rate Tutto il discorso riguardo Normativa Transpondere Eccetera eccetera Lo lascio ad altri Questo non è il momento La sede giusta Ma Di parlare dei prezzi Sì è il momento La sede giusta Non costa poco 2.099 euro Questa versione Con una sola batteria Però avete visto Dura veramente tanto 2.799 La versione Combo Quindi con tre batterie Il carica Batterie Multiplo E ben 4.000 C'è stato un attimo Perché è tanto 4.799 euro La versione Cine Che però Ha un altro scopo Se questo Può essere comunque caro Ma anche un utente privato Consumer Magari può pensare Di comprarlo E tirarci fuori Degli ottimi video Soprattutto per il discorso Zoom Magari stare lontano Dall'oggetto Ma soprattutto fare anche Quegli effetti Di dolly zoom Particolari Alla Hitchcock Si possono fare Beh Il cine È sicuramente Per chi fa Cinematografia Proprio film Perché l'Apple Pro Res È un codec Di un certo tipo Che viene utilizzato Proprio nell'ambiente Professionale Comunque lo tengo con me Aspetto che disattivino E che attivino Meglio tutte Disattivino le limitazioni Attivino tutte le possibilità E poi Tornerò con un refresh Di questa recensione Ciao